per questa realtà. Occorrono interventi mirati, interventi strutturati, interventi in tempi brevi. Ho citato la Lega del Filodoro non a caso perché è nota a tutti per le toccanti e anche significative campagne di formazione e sensibilizzazione per la ricerca di fondi per autosostenersi che sta promuovendo da decenni e che stiamo vedendo in questi giorni sui media. La richiamo perché questa campagna, due testimoni importanti di eccezione, Renzo Arbore e Neri Marco Re, ruota soprattutto intorno ad un imperativo, raddoppiamo l'impegno. Ecco, sottosegretario, questo era anche il senso dell'interpellanza e con piacere vedo che è stato colto. È un sollecito al Governo a raddoppiare il proprio impegno verso il mondo della sordocecità, della disabilità più in generale, rimuovendo tutti quegli ostacoli che si frappongono a chi ne è colpito, affinché sia chi ne è colpito che le famiglie possano vivere una vita dignitosa o comunque almeno più normale di quella di oggi. Grazie. La ringrazio, collega. Adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 2160 dei deputati Grillo ed altri, concernente elementi di iniziative di competenza in relazione alle attività di monitoraggio del Governo volte a verificare l'adeguamento delle Regioni al Decreto-Legge 78 del 2015. Chiedo alla deputata Grillo se intende allustrare la sua interpellanza. Sì, prego. Molto brevemente, perché siamo interessati ovviamente a conoscere la risposta del Governo. Questa interpellanza nasce dalla necessità di conoscere quali sono stati gli esiti dell'applicazione dei tagli come da voi effettuati nel Decreto-Legge 78, stante i rilievi fatti dalla stessa Ragioneria Generale di Stato e dall'Ufficio Sudi del bilancio del Senato, che criticavano appunto su molte di queste voci per dirne una riduzione del costo dei contratti al 5% per l'acquisto dei beni e servizi, il payback a carico dei dispositivi medici, l'applicazione del decreto appropriatezza, i risparmi con l'applicazione del regolamento standard per i requisiti ospedalieri. Ecco, vi chiediamo oggi di conoscere esattamente dei risparmi che voi avevate indicato.